Buongiorno a tutti, se volete accomodarvi cerchiamo di dare avvio a questa settimana, in realtà la settimana della riqualificazione fluviale è iniziata ieri con il corso e con il seminario con i consorsi, ne approfitto per oggi invece effettivamente l'avvio del quarto convegno italiano per la riqualificazione fluviale. Io sono Laura Leone, ho l'onore di essere il presidente del centro italiano per la riqualificazione fluviale e siamo molto contenti dell'organizzazione di questo convegno unitamente alla regione Emilia Romagna e dal consorzio di bonifica dell'Emilia Centrale. Non rubo tempo assolutamente perché purtroppo la mattinata è partita un po' in ritardo, lascio la parola all'assessore Paola Gazzolo delle politiche ambientali e della montagna dell'Emilia Romagna che ci fa un rapido saluto e poi tornerà a raccontarci e a dirci qualcosa di più nel prosieguo della giornata. Sì, grazie, buongiorno, buongiorno a questa importante sala e benvenuto al quarto convegno nazionale per la riqualificazione fluviale. Vi saluti chiaramente alla presidente che ha appena introdotto la giornata e ai relatori che poi seguiranno. Anche per la regione Emilia Romagna indubbiamente è un piacere ospitare questo quarto convegno nazionale sulla riqualificazione fluviale. è il segno non solo della disponibilità con cui Regione Emilia Romagna accoglie momenti qualificanti per la programmazione e per la pianificazione più complessiva delle politiche di bacino sull'acqua, ma è anche il segno e l'orgoglio della testimonianza di un impegno sulla riqualificazione fluviale che in questa regione parte dagli anni 90 e segue con alcune importanti tappe segna anche il quadro normativo nazionale. Lo dico perché Regione Emilia Romagna dopo le prime esperienze negli anni 90 insieme al CIRF nascono le prime linee guida per i consorzi di bonifica che sono parte, in particolare il consorzio dell'Emilia Centrale parte integrante anche di buone prassi che poi oggi verranno anche raccontate. segna nel 2015 anche la scelta di approvare le linee guida sulla riqualificazione fluviale che diventano anche un pezzo del portato legislativo e normativo nazionale e che hanno segnato anche indubbiamente la priorità di in questa direzione di fare di queste linee guida uno strumento per migliorare complessivamente lo stato dei norsi corsi d'acqua. La Regione Emilia Romagna magari più tardi appunto potremmo entrare nel dettaglio, indubbiamente la Regione Emilia Romagna è molto impegnata nell'innovare le sue politiche di fronte in particolare alla grande sfida planetaria del cambiamento climatico e dello sviluppo sostenibile. Lo dico perché è chiaro che ci siamo accorti tutti che i fiumi, i corsi d'acqua si riprendono gli spazi, si stanno riprendendo i loro spazi con questi quantitativi d'acqua che si distribuiscono diversamente lungo l'arco dell'anno, ormai lo abbiamo anche questo, è un dato che ci indica una tendenza e sappiamo che intervenire su una buona gestione del corso d'acqua a 360 gradi ma partendo anche laddove è possibile dal ridare spazio, lo spazio naturale ai nostri fiumi, rinaturalizzarli insomma e da questo punto di vista occuparci esattamente di questa priorità dentro la complessiva pianificazione e programmazione che guarda al tema dell'acqua è evidente che ne diventa un elemento di forza e di costruzione di quello che oggi l'Europa ci indica come la resilienza più complessiva dei nostri territori, delle nostre comunità attraverso anche ovviamente la resilienza delle risorse, della gestione delle risorse naturali. Quindi io penso oggi verranno presentati dopo questi brevi saluti anche dei casi importanti della storia che ha caratterizzato l'impegno in Emilia Romagna, 168 mila ettari vedo qui i pardolesi davanti a me che sono stati recuperati nella provincia forlivese, il progetto Life Free che è stato realizzato col Consorzio dell'Emilia Centrale, piuttosto che altri interventi che stanno caratterizzando anche la programmazione attuale. E quindi credo che non ci sia niente di meglio delle buone prassi per far comprendere una priorità che io mi auguro diventi non solo per l'Emilia Romagna un tratto che connota l'intera nostra programmazione, ma che diventi anche per l'intero paese esattamente l'elemento e la priorità che connota il futuro per la sicurezza delle nostre intere comunità. Quindi chiudo qui facendo i complimenti al Cirfa perché l'Emilia Romagna con il Cirfa ha cresciuto la sua resilienza, la resilienza delle sue politiche se posso dirla così perché è evidente insomma che anche qui conoscenza, competenza e la capacità di costruire su questo professionalità e nuova competenza negli operatori diventa l'elemento con cui davvero le politiche diventano azione e diventano esattamente buone prassi e realtà. Quindi buon lavoro. Grazie. Grazie soprattutto perché l'Emilia Romagna è veramente una regione in cui si è passati a parlare da progetto pilota a buone prassi che è forse il percorso naturale di quella che sono gli interventi effettivamente da fare sul territorio che necessitano appunto di una programmazione a lungo termine e soprattutto diffusa sul territorio. Passerei la parola al direttore del Consorzio di Bonifica Emilia Centrale, Domenico Turazza. Grazie. Buongiorno a tutti. Vi porto innanzitutto i saluti del mio commissario straordinario dottor Franco Zambelli che non ha potuto essere qui a presenziare questo convegno per impegni istituzionali a Reggio e quindi ha chiesto a me di sostituirlo. Il nostro Consorzio, il Consorzio dell'Emilia Centrale con grande piacere e assolutamente di buon grado ha accettato di partecipare alla gestione di questo importante convegno, forte anche in cui verranno presentate le iniziative a cominciare dal live rinasce che sta mettendo in campo, ma anche sicuramente perché avendo acquisito una certa esperienza, perché questo è già il secondo progetto live a cui partecipiamo, come ho detto ieri sul tema di riqualificazione fluviale, noi crediamo che il tema della riqualificazione fluviale applicato ai Consorzi di Bonifica, in particolare ai Consorzi di Bonifica dell'Emilia, ci stia tutto, sia un tema da approfondire, sia un tema da affrontare. Ed è per questo che insomma siamo qui, il nostro Torruffini più tardi, nel pomeriggio, presenterà questo famoso progetto live rinasce e vedo anche tanti colleghi in sala ed è per questo anche con una certa soddisfazione, visto che nel programma di oggi ci sarà soltanto il nostro intervento, ma anche altri interventi di Consorzi di Bonifica, perché credo che effettivamente la riqualificazione nata per i fiumi possa applicarsi con indubbi, vantaggi, benefici di tipo tanto ecologico, ambientale, quanto anche della gestione idraulica, anche a reticolo di Bonifica. Quindi noi partecipiamo con molto interesse a questo convegno, siamo a fianco del CIRF su questi temi che crediamo rappresentino, come detto molto bene ieri, il nostro direttore dell'Ambia regionale, l'attività ambientale costituisce un po' nella storia recente della nostra Bonifica, costituisce un po' la scommessa del futuro. Noi crediamo realmente che questo tipo di approccio di gestione ai corsi d'acqua, ai corpi idrici superficiali che gestiamo costituisca il futuro, comporti sicuramente una svolta anche culturale, perché noi fino adesso, dal 1900 in poi, la buona, la corretta gestione dei corsi d'acqua di Bonifica, o comunque dei corsi d'acqua di pienura, consisteva nel sfalciare tutto quello che c'era, perché così in questo modo l'acqua scorreva più facilmente. È continuo, capite, in più di cent'anni, sui centovent'anni quasi, che questo dobbiamo fare, non è facile cambiare rotta così improvvisamente. Però è anche giusto porci nuovi obiettivi, rendersi conto che le esigenze sono cambiate, che viviamo in un ambiente che è totalmente cambiato rispetto a cent'anni fa e quindi che quello che ci chiedono non è soltanto di continuare a far defluire le acque quando piove o farle comunque circolare quando di acqua non ce n'è per i fini dell'irrigazione, ma anche di valorizzare quello che è appunto di fare merda, quello che è il valore ecologico dei nostri corsi d'acqua. Quindi questo tema per noi è molto interessante, ben volentieri partecipiamo a questo convegno. Auguro a tutti quanti, ringrazio quindi tutti quanti voi, a cominciare dal CIRF, al Presidente del CIRF, a tutti quanti buon lavoro, credo che sarà molto interessante. Grazie mille. Ringraziamo il Direttore e a questo punto passerei a dare la parola agli ordini che hanno patrocinato questo nostro evento. L'ordine degli ingegneri ancora non è arrivato, magari farà i suoi saluti successivamente. Passerei invece la parola a Alfredo Posterano, Presidente dell'Ordine degli Agronomi e Forestali di Bologna, che ci porta comunque i suoi saluti dal settore nazionale. Buongiorno a tutti. Gli Agronomi porto i saluti dell'Ordine degli Agronomi e del Dottore Forestali della provincia di Bologna e soprattutto della nostra Presidenza nazionale. La dottoressa Diamanti si scusa per non essere qui stamane, ma ha avuto un impegno improrogabile, però ci teneva a portare il suo saluto. Stamane ho avuto il privilegio di scorgere quelli che sono gli atti di questo importante convegno e da ex ricercatore devo dire che mi complimento con gli organizzatori per aver impastito un importante convegno con tanti lavori scientifici e importanti. In questo caso gli agronomi e forestali sono molto contenti di poter partecipare a un convegno così importante. Mi riallaccio a quello che diceva prima l'assessore Gazzolo in riferimento a quello che la regione Emilia Romagna sta facendo in questi anni sulla tutela dell'ambiente. Mi congratulo anche con loro. Giustamente diceva che i fiumi si riprendono, un importante, i fiumi si riprendono nel loro percorso, è vero, quindi è uno spunto molto importante per quello che saranno le discussioni future. Io non vi rubo altro tempo perché come ho detto prima i lavori da presentare sono tanti e auguro a tutti un buon lavoro. Grazie. Benissimo, a questo punto ringrazio ancora l'assessore, il direttore e il presidente dell'ordine di Bologna. Aspettiamo l'assessore successivamente che verrà a farci ancora i suoi saluti, a raccontarci ancora qualcosa. Mentre Andrea Goltara si prepara per introdurre la giornata di oggi con un inquadramento dello stato e delle prospettive della riqualificazione fluviale in Italia, ci tengo a salutare anche gli studenti che ci fanno compagnia in questa giornata che ci permettono di pensare ad un futuro in cui ci sia una maggior consapevolezza di quelle che sono delle buone prassi e di quelle che sono gli interventi che possono essere effettuati andando in qualche maniera contro a quelle che sono il normale itere e il normale andamento delle azioni all'interno anche dei singoli dipartimenti. Quindi vi ringrazio, lascio la parola ad Andrea e ci vediamo sicuramente nell'arco di questi giorni. Grazie. Grazie Laura, benvenuti, buongiorno a tutti. Con molti di voi ci siamo lasciati qui, vicino a questo corso d'acqua incredibile che è la fiumara Mendolea circa tre anni fa. Allora romperò il ghiaccio cercando di fare molto brevemente il punto con voi di cosa è successo in questi tre anni, dove siamo e che prospettive ci sono. Dal 2015 sicuramente in Italia ci sono stati diversi progetti molto interessanti e anche in qualche caso la prosecuzione di programmi di riqualificazione fluviale che sono portati avanti ormai da più di un decennio. Sicuramente ci sono delle fonti di finanziamento ormai abbastanza stabili per finanziare singoli interventi, ad esempio i LIFE tipicamente, ma anche in alcune regioni della Fondazione Caripo. Oggi la Fondazione Caripo ci farà una rassegna di progetti anche di riqualificazione finanziati tramite fondi della Fondazione. Bisogna però dire che questi progetti per lo più ancora hanno una scala abbastanza puntuale e rispetto alle pressioni che esistono sui corsi d'acqua questa scala è ancora molto molto inferiore. Questo però è una situazione che condividiamo con la maggior parte dei paesi europei, quindi se vediamo il punto e l'aggiornamento dello stato delle acque in Europa vediamo che negli ultimi cinque anni non c'è stato un grande miglioramento, quindi serve uno sforzo maggiore, un salto di scala negli interventi di mitigazione degli impatti. Anzi bisogna dire che visto che la conoscenza è aumentata molto scopriamo problemi che magari prima conoscevamo meno, pensiamo ad esempio all'inquinamento chimico delle acque e quindi ci ritroviamo a doverne risolvere di nuovi. La situazione italiana, questa diciamo è una figura aggiornata, non è così tremenda come certi fiumaci della Rur, quindi il rosso è un po' più chiaretto, però diciamo che ci sono ancora molti problemi da risolvere e forse questa figura è anche un pochino ottimista perché se pensiamo al monitoraggio, agli elementi che ancora mancano da monitorare in Italia probabilmente se ci aggiungiamo i pesci, iniziamo a studiare meglio l'idromorfologia scopriamo che ci sono diverse questioni da affrontare. Se gli interventi che sono stati realizzati in questi tre anni forse non sono stati alla scala degli impatti esistenti, forse non lo sono stati nemmeno per quanto riguarda gli impatti ulteriori che in questi tre anni hanno insistito sui nostri fiumi. Ad esempio se pensiamo agli impianti idroelettrici, da quando ci siamo lasciati lungo la fiumara Mendolea circa tre anni fa, in Italia sono stati realizzati oltre 600 nuovi piccoli impianti idroelettrici, questa è la figura aggiornata, come vedete, nuovi impianti idroelettrici che hanno dato un contributo in termini di energia molto limitato, quindi almeno 600 tratti di corsi d'acqua che rispetto a tre anni fa oggi hanno ulteriori impatti. Consumo di suolo, oggi abbiamo la fortuna di avere dei dati molto aggiornati che tengono in considerazione anche gli impatti nelle fasce fluviali, nel rapporto di Ispra degli ultimi anni c'è anche questo dato, cioè qual è il consumo di suolo nelle fasce, entro 150 metri di corsi d'acqua e in questi tre anni ogni secondo abbiamo consumato tre, due metri quadri di suolo anche vicino ai fiumi. Sta diminuendo, questo è un segnale positivo, quindi nell'ultimo rapporto Ispra vediamo che stiamo rallentando, ma l'inversione di tendenza netta ancora forse non c'è stata. Quindi ad esempio in termini di gestione delle alluvioni, questa è una figura relativa solo al Veneto, solo in un anno abbiamo perso un milione di metri cubi di capacità di accumulare acqua durante le piene nel suolo. E nell'ultima legislatura purtroppo il famoso disegno di legge sul consumo di suolo non è arrivato al traguardo. Quindi su questo tema ci sono state esperienze positive di alcune regioni, ma c'è molta strada da fare. Ma allo stesso tempo noi crediamo come CIRF che in questo momento ci sia una situazione tutto sommato positiva per veramente cambiare passo nella riqualificazione fluviale in Italia. C'è un assetto normativo e di governance che ha fatto passi avanti molto importanti, passi avanti che consentano veramente di pianificare e programmare interventi a una scala che prima era difficilmente ipotizzabile. Ad esempio finalmente dopo un lungo percorso sono state istituite le autorità di distretto, quindi oggi le autorità hanno gli strumenti veramente per iniziare a confrontare alternative di gestione di intervento alla scala adeguata. Hanno gli strumenti per veramente pianificare, programmare, includere nei piani di gestione, nei programmi di misure, interventi di riqualificazione alla scala adeguata e sapendo dove fare cose e come. Ci sono stati importanti cambiamenti normativi, ad esempio nel collegato ambientale 2015, poco dopo la fine del nostro convegno, è stato inserito un articolo che obbliga tutte le autorità di bacino, tutte le regioni a gestire i sedimenti sulla base di piani di gestione a scala di bacino. Piani di gestione che hanno proprio l'obiettivo di ridurre l'alterazione idromorfologica e quindi recuperare dinamica, spazio per i corsi d'acqua in un'ottica molto obiettivo. Questo è importantissimo, è una normativa che molti paesi ancora non hanno e quindi l'Italia in questo senso è molto avanzata, ora è veramente il momento di applicarla pienamente. I contratti di fiume, è un momento in cui c'è molto entusiasmo, molta energia, c'è stato un inquadramento normativo, è stato fondato un osservatorio nazionale sui contratti di fiume. Questa è una grande opportunità per riportare la gestione dei corsi d'acqua al centro dell'attenzione pubblica, coinvolgere la popolazione. Quindi se riusciamo a farlo promuovendo davvero interventi di conservazione e riqualificazione è un'opportunità molto molto importante da sfruttare in questi anni. L'obbligo degli interventi integrati, l'abbiamo parlato molto ieri del famoso 20% da dedicare agli interventi che vanno a ridurre il rischio e a migliorare gli ecosistemi acquatici. Adesso non è chiarissimo, c'è un passaggio di consegne, io non commenterò se è positivo o negativo il passaggio d'Italia sicura al Ministero nella gestione di questi interventi, probabilmente abbiamo opinioni diverse in questa sala, fatto sta che ora bisogna capire come il Ministero gestirà e se vorrà dare nuovo impulso a quest'obbligo normativo che è ecogente, ricordo. Tutto sommato anche i due EU pilot che ci pendono sulla testa, sulla direttiva quadroacque e uno specificamente sull'idroelettrico, ci stanno aiutando, ci stanno aiutando perché ci obbligano a mantenere alta l'attenzione sulla necessità di raggiungere questi obiettivi. Siamo molto vicini a una procedura di infrazione e molto spesso quando si parla con gli amministratori pubblici tutti si ricordano di questi EU pilot, quindi tutto sommato anche questo crea una situazione positiva per fare riqualificazione in Italia. Detto questo ci sentiamo di fare delle proposte, abbiamo delle aspettative per i prossimi anni per sfruttare questa situazione tutto sommato positiva. Da punto di vista più politico, europeo, questo è un momento importante perché si sta valutando la direttiva quadroacque, si sta facendo il famoso fitness check, la Commissione europea sta coinvolgendo la popolazione europea per cercare di capire cosa funziona, cosa ha funzionato e cosa meno nell'attuazione della direttiva. Noi chiediamo veramente, abbiamo già chiesto al Ministro dell'Ambiente insieme a molte altre associazioni italiane di sostenere fortemente a livello europeo l'ambizione, l'altissimo livello di ambizione della direttiva quadroacque. I Paesi membri si stanno riunendo periodicamente per decidere una posizione comune, ci auguriamo che l'Italia davvero sostenga con forza la direttiva così com'è. A chi è interessato di fiumi chiediamo invece di partecipare a questa consultazione pubblica perché è davvero importante dare un segnale che è importante, quindi che per noi comunità che si occupa di corsi d'acqua ma più in generale per la popolazione italiana è davvero importante attuare con forza questa direttiva. Ovviamente allo stesso tempo è anche necessario cambiare passo anche a livello politico nazionale nell'attuazione della direttiva, incluso il principio di non deterioramento. Visto che a brevissimo ci sarà una decisione secondo noi molto importante, mi permetto di ricordare ai rappresentanti delle regioni qui in sala che a breve ci sarà una Stato-Regioni che dovrà dare l'imprimatur definitivo al decreto sugli incentivi ai rinnovabili, che finalmente dopo che noi l'abbiamo chiesto per molti anni toglie gli incentivi ai nuovi impianti nei corsi d'acqua naturali. Chiediamo alle regioni di sostenere questo cambiamento che secondo noi è importante per evitare di perdere gli ultimi corsi d'acqua in buono Stato che ancora abbiamo. Ieri con i consorzi di bonifica abbiamo parlato lungamente del ruolo degli agricoltori, allora forse non tutti lo stanno seguendo nel dettaglio ma è proprio in questo momento che si stanno concludendo le negoziazioni a livello europeo per la nuova politica agricola comunitaria. È veramente fondamentale che la nuova PAC contenga degli strumenti forti che garantiscano la tutela delle acque, quindi che ci siano degli strumenti per coinvolgere gli agricoltori, più di quello che è stato con la PAC attualmente in vigore. E quindi anche a livello di ministeri è fondamentale che ci sia un coordinamento, che l'Italia chieda le stesse cose, che ci si ricordi che senza il ruolo del mondo agricolo, degli agricoltori, dei consorzi di bonifica, sarà veramente molto difficile raggiungere gli obiettivi di qualità richiesti dalla Direttiva Quadro Acque. Per quanto riguarda gli interventi integrati di cui abbiamo parlato molto, chiediamo che si assicuri l'applicazione di questi criteri che sono già stati in qualche modo normati, ma è anche importante che gli enti abbiano un parco di idee, di progettualità che ancora un po' manca. Tutti nei cassetti hanno progetti tradizionali di infrastrutturazione dei corsi d'acqua e invece ancora in pochi hanno idee progettuali da farsi finanziare che guardino verso la riqualificazione fluviale, alcune regioni di più, altre meno. È importante che vengano finanziati anche questi studi, sia a livello nazionale che regionale, perché se non riusciamo a confrontare alternative di gestione in maniera anche quantitativa è molto difficile poi riuscire ad arrivare a delle progettualità di questo tipo. Ma è fondamentale anche fare formazione, disseminazione, che i tecnici abbiano nella cassetta degli attrezzi questi strumenti. Oggi ce l'hanno poco e quindi è difficile pensare a certi interventi se uno non è abituato a macinarli. E anche in quest'ambito, come abbiamo visto ieri, ne abbiamo discusso lungamente, il ruolo dei consorzi di bonifica è molto importante, perché loro hanno in gestione quei territori, quell'ampissima rete di corsi d'acqua che può garantire una serie di interventi diffusi. La manutenzione ordinaria, anche di questo chi è stato qui con noi ieri ha già iniziato a parlarne. Ridurre l'impatto della manutenzione ordinaria sui corsi d'acqua, abbiamo detto ieri, è già un'azione di riqualificazione molto importante. Quindi nell'attuazione dei programmi di misure la riduzione degli impatti, la sostenibilità della manutenzione, la definizione di approcci di manutenzione più integrati è un'azione molto importante e questo è collegato anche all'applicazione di quella normativa sui pieni di sedimenti che ho citato prima. Esistono ancora molte normative in conflitto con questa buona norma nazionale, sia regionale che nazionale, cioè in questo momento depositati disegni di legge che vanno in direzioni completamente opposte, schizofreniche. Ecco, è il momento di essere chiari sull'approccio da seguire. Come in altri paesi, viste queste condizioni, crediamo che sia arrivato il momento di definire dei programmi di ampio respiro, di ampia scala sul ripristino della connettività dei corsi d'acqua, sia dal punto di vista della fauna e vedremo diversi interventi in questi giorni che parlano di questo argomento, sia per quanto riguarda i sedimenti. Il nostro progetto ImoCars in particolare, questo qui, che ci ha consentito di organizzare una sessione internazionale specifica, sta sviluppando strumenti proprio per supportare tecnicamente le valutazioni per andare in questa direzione, per ripristinare la connettività. Tra gli strumenti utili per ripristinare la continuità, ad esempio c'è la gestione degli invasi, il ruolo dei privati. Questa slide l'ho copiata da Reggio Calabria, spero che sia l'ultima volta. Adesso apparentemente entro fine ottobre si dovrebbe concludere la revisione di questo decreto, che definisce come i privati debbano gestire i sedimenti all'interno degli invasi. Riuscendo a inserire dei criteri di sostenibilità e che vadano nella direzione del ripristino morfologico, quindi la riqualificazione fluviale, si riuscirà a dare un ruolo molto importante ai gestori idroelettrici, ai gestori di questi invasi e quindi anche a finanziare senza oneri pubblici degli interventi molto importanti. Questo sta accadendo in altri paesi. Mercoledì pomeriggio chi sarà con noi vedrà delle esperienze davvero molto interessanti e molto avanzate, in cui i privati stanno facendo azioni di riqualificazione veramente a grande scala. E poi, perché no? Se ne sta parlando moltissimo a livello europeo in questi giorni, anche qui mercoledì avremo un intervento, una rassegna di esperienze europee molto interessante. È ora che anche in Italia si inizia a pensare che alla fine di una concessione non è detto che questa debba essere rinnovata e che si possa iniziare a rimuovere alcuni di questi sbarramenti. Anche perché, come forse alcuni di voi che lavorano più nell'ambito sanno, ci sono molte strutture che cominciano a diventare davvero obsolete e cominciano a porre problemi di sicurezza. Quindi quelle saranno le strutture su cui primariamente dovremo concentrarci. Quindi strutture che comunque dovremmo rimuovere. E possiamo cercare di farlo veramente dando un contributo molto importante alla qualità dei corsi d'acqua. E per concludere, visto che ogni tre anni si può essere molto ottimisti, credo almeno una volta, visto che l'anno prossimo il CIRF compie vent'anni, ci permettiamo di lanciare una proposta, la nostra personale versione del 2020-20. Ci auguriamo che dall'anno prossimo possiamo veramente iniziare a costruire una rete di esperienze di riqualificazione fluviale, vent'anni, venti fiumi, venti progetti di riqualificazione, perché no, possibilmente in venti regioni diverse, progetti monitorati, progetti veramente collaborativi in cui si uniscono le forze e le esperienze e che possano diventare l'impulso per una serie di interventi più ordinari e a scala più ampia un po' in tutta Italia. Si accettano adesioni fino da subito. Con questo io concludo questa brevissima rassegna.